Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Operazione Flaminia arrestati dai carabinieri di Fano Tre ladri d'appartamento che agivano anche in pieno giorno in presenza dei proprietari Nasconde al fisco migliaia di euro e si rende irreperibile evasore totale di origini peruviane scoperto dalle fiamme giari Giovedì l'ultimo saluto a Jessica Cuna, la 23enne investita e uccisa da un treno alla stazione ferroviaria di Fano Le immagini delle telecamere al vaglio degli inquirenti Multe proteste per la prima domenica ecologica a Fano, auto incolonnate ai varchi e residenti bloccati nell'isola Pedonare Hanno deciso veramente di eliminarci Meteo è arrivato il risponso delle cipolle di Urbani a pioggia e neve fino a marzo Poi primavera ed estate brevi Ecco come sarà il 2020 secondo il barometro della maestra Forlini Domani allerta meteo nelle marche per venti di tempesta Dopo il telegiornale torna in diretta primo cittadino ospite e sindaco di San Lorenzo in campo Davide Dellonti Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Apriamo un'ampia pagina di cronaca e cominciamo dai carabinieri che hanno individuato e arrestato tre topi d'appartamento di nazionalità croata che da Roma raggiungevano la provincia di Pesero Urbino appunto per ammettere a segno dei furti Le indagini sono partite ad ottobre con l'arresto del palo della banda Tutte le informazioni nel prossimo servizio di Lino Balestra Li hanno ammanettati praticamente nel letto della loro abitazione nelle campagne di Cisterna di Latina alle prime luci dell'alba di ieri su mandato del GIP del Tribunale di Pesero Francesco Messina in una operazione in forze dei carabinieri della compagnia di Fano assieme ai colleghi della stazione di Mondolfo con il supporto prezioso di diversi uomini della compagnia di Latina e l'ottavo reggimento Lazio Sono tre uomini, 21, 33 e 38 anni di nazionalità croata tutti responsabili in concorso tra loro di furto aggravato in abitazione Le indagini che hanno condotto sino loro sono partite con l'arresto del palo della banda un 33enne anch'esso croato da parte dei carabinieri della stazione di Mondolfo il 14 ottobre dell'anno scorso mentre era appostato in un parco nei pressi di un'abitazione dove i suoi compari si erano introdotti per rubare a far arrivare i militari sul posto la segnalazione di un cittadino che aveva notato l'atteggiamento sospetto dell'uomo e che ha subito chiamato direttamente la stazione dei carabinieri di Mondolfo In questa occasione sicuramente un ruolo determinante è stato giocato da questi rapporti diretti che i militari dei comandi stazione riescono ad avere con la popolazione Nell'occasione venne contattato proprio il telefono della stazione e il comandante unitamente ad un suo uomo nel giro di pochissimi minuti è riuscito ad arrivare sul posto e ad arrestare quello che era il palo del sodalizio Il sodalizio oltre che essere criminale era anche parentale sì perché i quattro uomini sono legati tra loro da legame familiare essendo padre, figlio e due cognati ed ora sono tutti e quattro in carcere Un contesto quello che si sono trovati di fronte i militari nella loro irruzione di sfarzo e ostentazione di benessere con all'esterno camper e auto di lusso e arredi nelle abitazioni, vere e proprie ville tutti di pregio e tutti di griff dell'alta moda dove oltre agli arrestati vivevano una trentina di persone in una sorta di clan La banda con precedenti è responsabile a dire degli investigatori dei veri e propri pendolari del crimine autori di diversi furti in appartamenti su tutto il territorio nazionale e stando alle evidenze venute fuori nell'indagine aveva deciso di operare nel territorio fanese per diverse volte piano fatto saltare dalle investigazioni dei militari del nucleo operativo radiomobile di Fano e della stazione di Bondolfo che ha smantellato di fatto la pericolosa banda croata La guardia di finanza di Fano invece ha scoperto una ditta di marotta che ha nascosto al fisco circa 340.000 euro è stata così attivata la procedura di ricerca dell'impernitore perché irreperibile Il servizio di Francesco Salvago Identificato dalle fiamme gialle un imprenditore peruviano per evasione fiscale nella zona di Marotta per la mancanza di dichiarazioni dei redditi dal 2017 per l'attività del montaggio di stand infissi La guardia di finanza di Fano ha constatato l'assenza di dichiarazioni scaturiti dalle banche dati e delle fatture di acquisto e di vendita rinvenute in sede di accesso accertando la mancata dichiarazione di oltre 340.000 euro di ricavi per l'anno di imposta 2017-2018 e la totale mancanza di qualunque documento contabile Il rappresentante legale dell'azienda nel frattempo faceva perdere le proprie tracce rendendosi totalmente irreperibile e obbligando i militari a far intervenire per essere assistiti nel corso delle attività Il professionista presso cui era domiciliata alla sede dell'azienda è risultato un commercialista della zona del tutto ignaro delle gravi irregolarità commesse dal suo cliente L'esito del controllo effettuato dal corpo ha riguardato oltre l'evasione fiscale anche l'occultamento e la distruzione dei documenti contabili trasmesse all'Agenzia delle Entrate che ha attivato le procedure di ricerca del destinatario attraverso gli uffici giudiziari e comunali di Ancona dove è risultato avere almeno formalmente la sua residenza in Italia Dall'inizio dell'anno l'azione di contrasto all'evasione fiscale ha consentito con il solo riferimento agli evasori totali di fare emergere già 12 soggetti che non hanno presentato seppur in presenza di un'effettiva attività lavorativa le previste dichiarazioni al fisco occultando complessivamente ricavi per circa 14 milioni di euro la banda dello spray accusata di essere responsabile della strage alla discoteca lanterna azzurra di Corinaldo dove nella calca provocata da spruzzi di sostanza urticante morirono sei persone cinque minorenni e una mamma ha chiesto di procedere con il rito abbreviato dopo la richiesta della procura del giudizio immediato arrivata un anno dopo i fatti gli avvocati di sei indagati hanno avanzato in questi giorni la richiesta di procedere con il rito alternativo che permette di avere uno sconto di pena in caso di condanna la data del processo però non è stata ancora fissata si terranno giovedì mattina invece i funerali di Jessica Acuna la giovane uccisa da un treno alla stazione ferroviaria di Fano nella notte tra sabato e domenica scorsi dopo la tragedia questa tragica morte della 23 negli inquirenti ora dovranno far luce sull'accaduto visionando anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza incredulità, sgomento e messaggi fiume sui social una litania continua di non ci credo non è possibile non è vero si poteva fare qualcosa nessuno ha capito il tuo dramma non abbiamo saputo aiutarti non sanno darsi pace gli amici di Jessica Acuna 24 anni ancora da compiere travolta alle 4 del mattino di sabato sui binari nei pressi della stazione di Fano da un treno merci proveniente da Taranto e diretto a Milano un gesto così traumatico così sconvolgente così violento da risultare incomprensibile ai suoi coetanei da chi l'ha frequentata e conosciuta in vita con i suoi sogni le sue aspirazioni e che non riesce a capacitarsi di quanto è accaduto in queste foto la vediamo sorridente felice piena di vita è così che i suoi amici la vogliono ricordare stando a quanto trovato dagli investigatori della Polfer di Ancona ciò che è accaduto lascia poco spazio ad altre ipotesi se non quella del gesto volontario un biglietto trovato nella sua borsetta scritto di pugno parla di una forte delusione sentimentale dei suoi tormenti intimi e poi indumenti e scarpe ritrovati poco distanti un quadro ben delineato che gli investigatori ormai sono abituati a decodificare ora però per dissipare ogni dubbio gli inquirenti tenteranno di ricostruire attraverso tabulati telefonici immagini di telecamere presenti in stazione o esterne le ore precedenti alla tragedia chi ha visto e con chi era e se era in compagnia di qualcuno in stazione pochi istanti prima della tragedia la sera stessa Jessica l'aveva passata in un locale una serata come tante per distrarsi assieme ai suoi coetanei nella mattinata di oggi sul corpo della giovane è stata effettuata l'ispezione cadaverica e la salma rimessa nella disponibilità della famiglia il funerale di Jessica per quanti vorranno dargli l'ultimo saluto verrà celebrato giovedì mattina alle ore 10 nella parrocchia di Cucurano e ancora cronaca un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 18 e 30 in via Sandro Pertini lungo l'interquartiere di Fano coinvolti nello scontro un auto e uno scooter guidato da un 19enne fanese ragazzo che proveniva da via indipendenza nell'immettersi in via Pertini è stato urtato dall'auto guidata da un 41enne nell'impatto il centauro è caduto a terra e si è ferito sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 19enne al pronto soccorso di Pesaro e la polizia locale di Fano per rilievi di legge pioggia di multe e proteste ieri per la prima domenica ecologica voluta dall'amministrazione comunale di Fano per contrastare l'emergenza delle polveri sottili residenti rimasti bloccati nell'isola pedonale e auto incolonnate in altre zone della città vediamo prima domenica ecologica senza auto in centro a Fano per una domenica senza smog ma invece con tante polemiche malcontento da parte di operatori commerciali e residenti l'ordinanza emessa dal sindaco la settimana scorsa è stata la misura draconiana adottata dal comune di Fano per fronteggiare l'emergenza ambientale dovuta agli sforamenti ripetuti delle polveri sottili registrati dalla centralina di via Montegrappa nel cuore della zona incriminata il blocco delle auto tutte le auto è stata l'unica contromossa possibile messa in campo nell'immediato tutto il resto è qualcosa da programmare studiare applicare ma che potrebbe ed il condizionale è d'obbligo dare i suoi frutti forse in un lasso di tempo di mesi e mesi obiettivo immediato invece era tutelare la salute dei cittadini la salute e la sicurezza anche sì perché anche questo era l'obiettivo dell'ordinanza anche se in molti non hanno compreso il senso del divieto di circolazione esteso ai mezzi non inquinanti tipo auto elettriche o a gas o a basse emissioni niente auto pedoni e ciclisti al sicuro quindi ed è per questo che è stato chiamato in causa l'articolo 7,13 del codice della strada che sanziona chi contraviene all'ordinanza del sindaco per ragioni di sicurezza anche per questo tutti i varchi 12 per l'esattezza oltre che transennati erano presidiati da agenti della polizia locale o personale della protezione civile che ha faticato non poco per spiegare avvertire e sanzionare chi non comprendeva chi cascando dalle nuvole non sapeva e chi invece pretendeva a tutti i costi di passare come è successo nel varco di via Mura Malatestiana a pochi metri dal comando della polizia locale dove un automobilista nonostante agenti e transenne è passato ugualmente e poi oltre che ad essere sanzionato nello specifico è stato anche beccato senza assicurazione ma il lavoro degli agenti di polizia è stato indispensabile per evitare il transito di auto senza andare a caccia di verbali che poi alla fine sono stati solamente 13 peccato che tutto questo non abbia portato a nulla situazione migliorata sì ma limite massimo consentito sforato anche senza auto e malcontento di operatori commerciali e residenti unici a festeggiare i ciclisti padroni incontrastati delle strade e che non hanno perso l'occasione di qualche selfie come i bike station un gruppo ciclistico di recente formazione che in linea con la loro filosofia di uno stile di vita sano hanno immortalato l'occasione sulla rotonda davanti a porta maggiore per il resto sarà cinesche chiuse centro poco frequentato prenotazioni nei ristoranti disdette e incassi dimezzati di bar e calo di vendita anche nelle edicole abbiamo avuto diverse telefonate da clienti che non riuscivano a trovare parcheggio non riuscivano a raggiungerci molti ci hanno disdetto dicendo che comunque se le strade erano piene c'era traffico il parcheggio non si trovava quindi è stata un po' una situazione un po' mal organizzata perché se magari creavano delle aree di parcheggio differenti o una bus navetta che poteva collegare le parcheggi dal centro città magari riusciva a gestire meglio questa cosa invece è stata un po' mal organizzata e logicamente i ristoranti come negozi sono rimasti penalizzati da questa cosa perché in centro era deserto speriamo che per domenica prossima ci sia una soluzione diversa spero che sia una domenica da dimenticare e da non ripetere vogliamo impedire l'accesso al centro ok facciamo parcheggiare nelle zone limitrofe non c'erano parcheggi i parcheggi qui da noi tutti vuoti io non capisco che senso abbia per quanto mi riguarda il mio lavoro è stato un disastro una botta di conti ve la siete fatta incassi meno sì sì la metà purtroppo siamo della categoria noi gestori esercenti commercianti e chi più ne ha più ne metta che evidentemente hanno deciso veramente di eliminarci e mentre i consiglieri d'opposizione criticano questa scelta delle domeniche ecologiche con la richiesta da parte della Lega di revocare l'ordinanza per domenica prossima l'assessore Samuele Mascarena ammette la scarsa efficacia dell'iniziativa ma considerazioni poche nel senso che ci sono dei dati oggettivi che sono quelli della centralina di via Montegrappa che nella giornata di domenica hanno registrato un abbassamento significativo ma insufficiente delle polveri sottili siamo passati infatti da 80 mg a metro cubo di sabato a 57 di domenica una diminuzione ma non sufficiente rispetto non solo ai limiti di legge che sono prescritti ma anche rispetto proprio a un'esigenza che noi abbiamo in questo momento di affrontare in maniera forte il tema delle polveri sottili questo vuol dire quindi che dovremo rivedere nelle prossime ore nei prossimi giorni una serie di provvedimenti che del resto avevamo individuato e presentato da subito come sperimentali e provare a mettere in campo soluzioni più strutturali da questo punto di vista è chiaro che il nodo rimane quello forte del traffico di attraversamento veicolare della nostra città in particolare sugli assi dell'Adriatica e della Flaminia e questo vuol dire anche come dire immaginare una serie di interventi che siano focalizzati a questo punto direttamente sui mezzi più inquinanti che attraversano la nostra città anche perché sul traffico veicolare c'è la possibilità di poter intervenire in maniera più diretta ed è chiaro che a questo punto gli interventi che dovremmo immaginare dovranno essere più estesi più articolati e probabilmente con caratteristiche diverse da quelle della Domenica Ecologica che è stata una sperimentazione che ha dato alcuni risultati ma che appunto evidentemente non è sufficiente ad affrontare una fase di difficoltà che è straordinaria che non riguarda ovviamente solo la nostra città ma un po' tutto il centro nord Italia e che dall'inizio dell'anno vede già 16 sforamenti quindi una cifra importante ragguardevole che non permette di rinviare oltre interventi che io peraltro avevo auspicato più strutturali soprattutto sulla viabilità Domenica quindi è confermata la Domenica Ecologica o ripenserete anche a questa eventualità visto che comunque non ha dato risultati sperati per il momento ovviamente è confermata ma nulla toglie che se ci sarà diciamo così la possibilità di mettere in campo nei prossimi giorni soluzioni migliori e più efficaci lo faremo superando anche la Domenica Ecologica ovviamente questo dipende da una serie di valutazioni da una serie di condizioni non ultime anche quelle climatiche meteorologiche e anche della capacità logistica di poter mettere in campo in pochi giorni interventi che siano molto più ampi molto più articolati e ovviamente in questo caso molto più diretti ad affrontare ed aggredire il problema delle polveri sottili oggi 27 gennaio il giorno della memoria celebrato per ricordare le vittime dell'olocausto a Fano questa mattina si è tenuta una seduta straordinaria del consiglio comunale insieme agli studenti delle scuole superiori per non dimenticare lo sterminio ancora poco conosciuto compiuto dai nazisti in Ucraina il giorno del ricordo della memoria la Repubblica italiana riconosce il 27 gennaio come data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz al fine di ricordare la Shoah lo sterminio del popolo ebraico le leggi razziali la persecuzione italiana dei cittadini ebrei e gli italiani che hanno subito la deportazione la prigionia la morte nonché coloro che anche in campi e schieramenti diversi si sono posti al progetto di sterminio a rischio della propria vita hanno salvato altre vite protetto i perseguitati il giorno della memoria divenuta una ricorrenza internazionale per commemorare le vittime dell'olocausto a Fano si è aperta con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna alla presenza di autorità e studenti ma anche del Vescovo Trasarti che ha voluto lasciare un messaggio forte alle nuove generazioni presenti centro del dibattito condotto da Leonardo Fresta dell'Università di Urbino è stato l'Ecidio di Babi Yar un fossato tristemente noto per essere stato durante la Seconda Guerra Mondiale un sito di massacri ad opera dei nazisti nel 41 nel cuore della città ucraina ai danni della popolazione locale la giornata è proseguita nell'atrio della residenza comunale per la commemorazione dei profughi ebrei superstiti dei campi nazisti ospiti della città di Fano dal dicembre del 45 al maggio del 1948 la memoria la memoria deve essere sempre un punto di riferimento per capire di quale atrocità è stata capace l'umanità e purtroppo anche le cronache dei nostri giorni ci dicono che questi momenti sono sempre purtroppo di grande attualità c'è sempre un motivo perché ci debba essere ci possa essere qualcuno più debole e discriminato devono essere momenti di riflessione non delle ritualità perché altrimenti non avremmo capito nulla e questo è il senso anche dell'organizzazione di questa giornata La stazione ferroviaria di Fano più accessibile accogliente e sicura la regione Marche ha approvato all'unanimità una mozione del vicepresidente Renato Claudio Minardi che ha l'obiettivo di impegnare la giunta ad attivarsi con ferrovie dello Stato La stazione di Fano è una stazione che ha sicuramente bisogno di lavori importanti fanno la terza città delle Marche la stazione viene utilizzata da studenti lavoratori pendolari turisti ed è sicuramente in una condizione di arretratezza e direi quasi di degrado ha sicuramente bisogno di lavori importanti da anni mi sto occupando di questo problema con RFI le ferrovie dello Stato e di fatto ieri abbiamo approvato una mozione all'unanimità in consiglio regionale che dà come obiettivo a RFI di accelerare i tempi di riqualificazione di questa stazione sono lavori importanti Fano diventerà una easy station con un investimento di circa 7-8 milioni di euro da parte di RFI questo significherà ridare decoro maggiore accessibilità soprattutto anche per i disabili che oggi non hanno le condizioni di poter prendere il treno in condizioni ottimali qualità dei servizi in alzamento dei marciapiedi sostanzialmente sarà una stazione con tutta una serie di servizi nuova moderna e sicuramente molto più bella di questo ce n'era assolutamente bisogno e peraltro Fano non solo la terza città delle marche ma anche un nodo di scambio con il trasporto su gomma e quindi ovviamente questa stazione acquisirà in accordo con RFI un ruolo maggiormente importante e di qualità per tutti coloro che ne fruiscono a partire dai servizi interni compresa la pensilina che ripara durante il periodo invernale che è stata tolta e non c'è più credo che sia una cosa da sottolineare nel 2020 2021 dovrebbero essere effettuati i lavori il rapporto con RFI è costruttivo ringrazio RFI per questa collaborazione e per l'attenzione che viene data alla terza città delle marche grazie anche al lavoro che abbiamo fatto la sala operativa della protezione civile regionale sulla base di un avviso di condizioni meteorologiche emesso dal centro funzionale ha diramato un'allerta per venti forti valida per tutta la giornata di domani martedì 28 gennaio in base alle ultime informazioni disponibili sull'evoluzione meteorologica anche la prima parte della giornata di mercoledì sarà soggetta a venti sostenuti sarà dunque probabile un'estensione dell'avviso di allertamento e intanto le cipolle di Urbani hanno parlato Emanuella Forlini maestra elementare che porta avanti la tradizione del padre ha assilato le previsioni meteo per il 2020 l'inverno quello vero arriverà nei giorni della merla ovvero a fine mese e porterà pioggia e neve su tutta la provincia di Pesaro Urbino poi sarà primavera che come l'estate però durerà poco sono queste in estrema sintesi le previsioni del tempo delle cipolle per il 2020 elaborate come ogni anno dalla signora Emanuela Forlini di Urbani una tradizione che l'insegnante Durantina coltiva con passione grazie al padre Anselmo nulla di scientifico per carità ma le previsioni delle cipolle di Urbani sono diventate un appuntamento fisso al quale si guarda sempre con una certa curiosità e allora vediamole nel dettaglio il cambiamento come detto arriverà nei giorni del 29 30 e 31 gennaio e faranno da apripista ad un febbraio che sarà ricco di precipitazioni con neve gelo e temperature rigide anche marzo vedrà episodi nevosi mentre il mese di aprile sarà bello e darà il via alla stagione delle fioriture che però avrà una interruzione a maggio a causa della pioggia per i mesi estivi il barometro delle cipolle prevede una situazione altalenante il caldo arriverà in ritardo e non mancherà la pioggia anche luglio soprattutto nella parte centrale avrà dei giorni variabili con pioggia sarà il mese di agosto invece l'unico caratterizzato da tempo bello e soleggiato settembre trascorrerà con cieli sereni alternati a pioggia soprattutto nella terza decade ottobre sarà asciutto senza precipitazione e con giornate soleggiate così come novembre anche se qui la colonnina del mercurio scenderà notevolmente e porterà gelate diffuse in fine dicembre dove le cipolle prevedono un Natale con tanta neve per la gioia di grandi e piccini ed è stato rinnovato l'appuntamento con il concorso fotografico nazionale carnevale di Fanno riti costumi e immaginario quest'anno per la sesta edizione sarà ospite d'onore presidente di giuria il fotografo di fama internazionale Ivo Saglietti tra i pochi fotografi ad aver vinto per ben tre volte il World Press Photo uno dei premi più prestigiosi in campo internazionale chi volesse partecipare potrà scaricare il bando e la scheda nei siti del carnevale di Fanno e di Centrale Fotografia si potranno inviare fino a quattro foto entro lunedì 2 marzo la partecipazione è totalmente gratuita e i primi tre classificati potranno aggiudicarsi dei premi il concorso comprende anche una serie di eventi culturali che troverete invece nel nostro sito occhioallanotizia.it e adesso passiamo alla pagina sportiva con tutti gli aggiornamenti di Matteo Del Vecchio Spreca un'importante occasione per uscire dalle sabbie mobili il Fanno che perde in casa contro il Gubbio e torna al penultimo posto in classifica a 5 lunghezze dalla salvezza di fronte ad un migliaio di spettatori il Fanno dopo il buon pareggio di San Benedetto parte bene e al nono va vicinissimo al gol con Gatti che vede il suo tiro respinto sulla linea dal difensore Maini nonostante Alma e Gubbio non occupino certo posizioni d'alta classifica danno vita ad un match vibrante fatto di continui capovolgimenti di fronte dove Viscovo da una parte e Ravaglia dall'altra hanno il loro bel da fare per tutto il primo tempo a sbloccarla ad un minuto dall'intervallo è Filippini che pesca il jolly su calcio piazzato dopo che qualche minuto prima Baldini sull'altra sponda aveva colpito la traversa sempre su punizioni il gol preso nel finale di tempo piega le gambe ai Granata che subiscono il contracolpo psicologico e al settimo della ripresa cadono di nuovo sotto i colpi del tandem Filippini-Gomez con quest'ultimo che è bravo a sfruttare un rimpallo dopo un altro calcio da fermo del Bomber Umbro l'Alma prova a riversarsi nella metà campo ospite sfruttando anche gli innesti della panchina di Marino e Rolfini ma prima il portiere Ravaglia e poi la seconda traversa di giornata questa volta colpita da Ricciardi stoppano ogni tentativo di rimonta e il Fano è costretto ad alzare bandiera bianca per la tredicesima volta in 23 partite la classifica come detto piange e la trasferta di Domenica sul campo della terza della classe Reggio Audace sicuramente non aiuta per affrontare in maniera serena la settimana spreca un'ottima opportunità anche la Vispesaro che non va oltre lo 0-0 in casa con Ravenna ma resta comunque in una posizione di classifica tranquilla la Fano sportiva che esulta nel weekend è quella del calcio a 5 grazie a Deta Beta che supera 3-0 in trasferta il Fuzz al Cesena e la Guante in classifica proprio ridosso della zona playoff sul campo neutro di Forlimpopoli in una partita segnata da diversi cartellini rossi e dalle dubbie decisioni arbitrali i fanesi passano nel primo tempo con Giuliani e sprecano varie occasioni per il raddoppio raddoppio che arriva nella ripresa grazie ancora a Giuliani mentre il gol della sicurezza a 5 dal termine è di Capitano Lorenzete grazie a questi tre punti la squadra di Patron Serafini sale a quota 18 nel campionato nazionale di Serie B e mette nel mirino i playoff distanti ora solo 4 punti e sono 4 anche i punti che separano la Giban Virtus dai playoff promozione nel campionato di A3 di Volley anche se la sconfitta interna di ieri contro la capolista Porto Viro lascia la formazione fanese immischiata in piena zona playoff un pala salende gremito non riesce a spingere verso l'impresa i ragazzi di radici apparsi un gradino sotto rispetto agli avversari più precisi nei fondamentali a cominciare dal muro vera arma in più nel primo set vinto dagli ospiti per 25-15 la reazione fanese nel secondo parziale illude il popolo bianco-rosso ma gli ospiti tornano a ruggire e dopo il 25-18 della Virtus Porto Viro mette di nuovo la freccia nel terzo set nonostante si giochi punto a punto e nel quarto legittima il primo posto lasciando Salgado e compagni a 16 sconfitta anche in casa APAP Calcinelli-Lucrezia dove nel campionato nazionale di B2 femminile la BCC Fano Pedini perde 3-0 contro la capolista Emanuele Riviera-Rimini nonostante il secco risultato e al netto di alcune assenze importanti la formazione di coach Giuseppe Davide Galli ha comunque messo in campo una buona prestazione contro una squadra di alto livello e chiude il girone di andata fuori dalla zona calda della classifica pronta ad affrontare con fiducia il girone di ritorno dal parquet di Lucrezia ci trasferiamo ora sulla sabbia dei centri sportivi Bistedium Marotta e Iesi Beach Palace dove ieri si è giocata la seconda tappa del secondo campionato interprovinciale CSI di Beach Tennis Indoor manifestazione che mette in paglio anche il titolo di campione provinciale nessun verdetto è stato ancora emesso anche se dopo le prime sfide la lotta per il titolo sembra essere una corsa a 5 tra gli Iesini del Bat Team e Montobest i fanesi del Beach Tabù gli Invictus Bola Team di Moie e i pesaresi cani sciolti continuiamo a parlare di CSI perché ieri a Mombaroccio si è gareggiato per la prima delle tre tappe del campionato regionale di ginnastica artistica CSI Marche 130 le ragazze dai 6 ai 16 anni scese in pedana provenienti da tutta la regione per la gioia del comitato pesarese che nell'occasione era rappresentato dalle atlete dell'Agis Sassoferrato dell'Imperial Gymnastic Art di Pesaro e di Gymnastican d'Urbino prima dei saluti facciamo i complimenti al fanese Arbion Vela che insieme alla fidanzata e compagna sportiva Giulia Minarini nei giorni scorsi ha vinto due medaglie al trofeo Winter Match e Fashion Caribe una competizione di danze caraibiche nel quale il duo ha primeggiato nella categoria C combinata cubana ovvero salsa cubana e merengue e si è piazzato al terzo posto nella combinata portoricana composta da salsa portoricana e baciata sulla sua testa pendeva un mandato di cattura per alcuni reati commessi nella provincia di Pesaro Urbino ma lui aveva pensato bene di rendersi irreperibile di trascorrere del tempo in altre città italiane eludendo fornendo false identità le conseguenze delle sue azioni criminali ma i legami con le vecchie frequentazioni la nostalgia dei locali della costa adriatica lo hanno tradito finisce così in un sabato sera in un locale di Pesaro la latitanza del 22enne albanese che nonostante la giovanissima età ha alle spalle una lunga sfilza di precedenti ragazzo una volta fermato seppure complimentato con i poliziotti per la rapidità dell'intervento nonché della memoria visiva degli agenti stessi che lo hanno riconosciuto sebbene fossero passati almeno un paio d'anni dall'ultima volta che era stato nel Pesarese all'uomo è stata notificata la condanna per gli oltre due anni di detenzione che deve scontare e adesso apriamo la nostra pagina all'album di Fanu TV perché questa sera facciamo gli auguri a Nestorina Giulietti che oggi compie cento anni pienamente lucida nonna Nestorina è amante della lettura legge addirittura le encicliche di Papa Francesco senza occhiali logicamente auguri da parte di tutti i familiari e dallo staff di Fanu TV il nostro telegiornale termina qui ma dopo le previsioni del tempo torneremo in diretta di nuovo per primo cittadino sta raggiungendo i nostri studi il sindaco di San Lorenzo in campo Davide Dellonti potete già inviare i messaggi al 338 49 68 250 anche utilizzando l'applicazione di Whatsapp mi raccomando dei brevi messaggi di test oppure potrete intervenire in diretta telefonandolo 0721 86 14 33 e allora rimanete sintonizzati sul canale 17 di Fanu TV a tra poco a tra poco a tra poco